ragazzi benvenuti giovedì primo aprile 2021 e 18 e risotta oggi abbiamo un workout che sarà un letter ma ne parleremo dopo intanto preoccupiamoci del warm up che sarà un ambra 5 minuti abbiamo degli esercizi un po diversi a corpo libero che possiamo anche fare all'aria aperta visto l'arrivo della bella stagione in giardino e saranno 8 skip 8 white skip 8 skip up 8 nia per non preoccupatevi della terminologia dopo vi faremo vedere tutto 8 like girl e 8 tempo amra 5 minuti guardate quello che andiamo a fare seguiteci e ci prepariamo per il warm up respira 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 marcia destra rip段 ungia all spotted 3 2 divarica unici divad автомобilips che rimane ancora 4, 3, 2, via vai 4, 3, 2, calcio calcio giro più su 4, 3, 2, calcio dietro 4, 3, 2, ginocchio su calcio dietro 4, 3, 2, ginocchio su calcio dietro ginocchio su calcio dietro non l'avevi fatta prima questa calcio dietro l'ultima volta ginocchio, ginocchio piega e stendi alzuti il braccio 4, 3, verso il passo in alto in basso l'ultima volta in alto in basso rimani marcia sali sullo 4, 3, 2, benzi 5, 3, 2, benzi ancora 4, 3, 2, benzi ancora 2 ginocchio su ginocchio su ancora 4, 3, 2, benzi 3, 3, 3, 2, benzi ancora 3 l'abbiamo fatto questo è gioco continuo a fare 3 guarda a me continuo a fare 3 guarda a me vai con me bravo bravo eccio vai l'ultimo qua l'ultimo di qua marcia vegi lo facciamo tutto da tavo 4, 4, 3, 2, si ruolo colcio prontissimo ginocchio 3 ginocchia 3 3 ginocchia incrocia incrocia rimani sul costo scendi mobilizziamo la colonna 4, 4, 3, 2, unisci i piedi e sali sali sullo spero bene ragazzi il warm up terminato lo potrete vedere domani caricato su youporn e andiamo avanti con l'attivazione avremo sono un po' sconso sono molto affaticato dal warm up però così ti sento a suo agio ho detto molto più sì allora avremo dei round da 20 secondi di lavoro 20 di recupero andiamo a vedere gli esercizi che abbiamo nel workout abbiamo una coppia di esercizi il primo saranno il devil press facciamo una progressione per il devil press quindi primi 20 secondi barbie deadlift con il mio dumbbell quindi faccio il mio barbie mi raccomando quando faccio il barbie richiamo le gambe vicino al manubrio ok posso fare basta basta non ti stancare troppo posso fare sempre con la stessa mano oppure cambiare mano ogni volta come poi potremo fare nel workout con il devil press 20 riposo altri 20 lavori andiamo a fare sempre il nostro barbie questa volta facciamo un clean con il dumbbell una girata ok stesso principio del deadlift ultimi 20 secondi andiamo a fare il movimento completo devil press ok con la mia kettlebell con il mio dumbbell con la mia kettlebell ovviamente faccio il barbie poi faccio uno snatch se ho zaino sacco e così via faccio barbie deadlift primo round barbie shouldering il secondo e il terzo che saranno uguali ok dopodiché andremo a scaldare anche gli affondi in overhead e dove andremo a fare primi 20 secondi con una mano brazzo bene in spinta sopra la testa spalla incastrata che non si allontana dall'orecchio gli altri 20 secondi vado a fare con l'altro braccio e ultimi 20 secondi cambiamo esercizio ci sarà anche che sono il workup poi vi spiegheremo in che modalità v-up ovviamente con il mio sacco posso fare degli affondi con il sacco prima su una spalla poi sull'altra o tenerli direttamente dietro e kettlebell stessa cosa i v-up come ha fatto vedere Elisa posso farli a gambe unite se faccio fatica li faccio a gambe alternate oppure faccio delle semplici chiusure a libro ok partiamo man mano che andiamo avanti gli diciamo che esercizio andremo a fare 10 secondi 10 secondi a via partiamo con barbis spettami sono andata un po' resta io sono dame oggi va bene devo sentirmi virile bravo 5 secondi 25 sand bravo riposo ora abbiamo barbie lean sì sì non sono solo quello dei legni 5 anche qui possiamo alternare o fare 10 secondi 10 secondi 5 ok ora barbie devi press facciamo meno oscillare le gambe in mezzo alle gambe la kettlebell in mezzo alle gambe quindi teniamolo un po' lontano da noi quando lo stacchiamo alla terra che bella tirata su in alto andiamo con il tuo movimento preferito ce l'hai impressione sì insieme a un starto e stop all'incrocio esatto ora andiamo con la sequenza in affondo damber canterbell sopra la testa partiamo con una mano poi faremo l'altra nel work potremmo essere così bravi da finire il devil press e stare già incastrati esatto a chi dedichiamo questo esercizio Enrico ci manchi torna fra noi presto e stop cambia braccio 10 secondi ancora 3 2 1 per la sinistra devi fare la ricezione direttamente in un po' infatti hai visto hai fatto una mossa scattante che non è arrivato con la sinistra meno cioè come andare in squat dopo lo snatch praticamente però ho splittato ho un po' di addome 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Aspettiamo la nostra assistenza, ci spostiamo agli step, non ci sanno più. Allora, workout. Abbiamo un ladder a scendere, che è più motivante e più stimolante, di due esercizi. Quindi, david press ad un braccio, o shouldering con il nostro zaino sacca, e affondi con il nostro dumbbell in overed, se riesco, se no me la poso su una spalla. Stessa cosa con il sacco, su una spalla, sull'altra, oppure dietro la nuca. Allora, andiamo a lavorare in questo modo, faccio 20 double press, e dopo ogni set di esercizio, vado a fare, ad eseguire 5 W-up. Anche qui, al solito, andiamo a lavorare un po' sull'addome, e scaliamo in modo tale da mantenere la forma corretta. Quindi, gamba alternata, chiusura, pallina, bacchetta, come abbiamo visto nell'attivazione. Quindi, vado a fare i miei 20 double press, faccio 5 W-up. Vado a fare i miei 20, affondi con il peso sopra la testa, altri 5 W-up. Dopodiché, 18 W-up, 18 W-up, 16, 16, e così via. Fino ad arrivare a 2-2, ok? Ovviamente, per i Devil Press e per i Lunges, cambiamo mano quando vogliamo. Possiamo anche farli alternati, soprattutto per i Devil Press, se vogliamo metterci un po' di peperoncino sul workout. Allora, abbiamo un tempo totale di 25, 23 minuti, scusate. E detto questo, direi... I W-up li facciamo dopo ogni esercizio, o alla fine di tutto il set? I W-up li facciamo dopo ogni set, avete ragione. Facciamo 20-20 W-up, 18-18 W-up. Mi sono sbagliato nella prima spiegazione. No, 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 sennò sarebbe dopo ogni esercizio. Li facciamo dopo ogni set, quindi dopo 20-20 vado a fare i miei W-up. Dopo 18-18 vado a fare i miei W-up e così via. I primi round lunghissimi. I primi round lunghi. I primi round lunghi. E però inizieremo ad avere un po' l'addome... Bruciato. Bruciato se non siete lì in sala. Musica? Dai, dai. Ah, qui è una musica un po' soft. Ah, io tengo il dumbbell in giro. però se ti faccio compagnia ecce o si incroggia? ci prepariamo con i primi metodi del stesso pronti ragazzi e noi partiamo quindi sta incroga? si si e no? si 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 Alla prossima. 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 Ciao. Alla prossima. se no non c'è Marco, se no sarebbe ancora il mese sui spazi lui non sa neanche fare vo-up lui nooo Sì 13 3 Oh Mi hai fatto la stravista Juno Ho 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 4 Sei ormai per la mano? Di una da tre? Stai in un round, non sembrava che si sta diventando. Hai sbagliato? Scusi che tu hai sbagliato? Non ci sono ancora la bambina. Non mi sono mai sbagliato. Non ti è sbagliato? Ragazzi, il board map mi ha svuotato, è l'energia di caldo, è l'energia di caldo, è l'energia di caldo, è l'energia di caldo, è l'energia di caldo. Siamo praticamente a metà. Alla prossima No, no, 4, scusa. No, 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 no iscriviti al canale 10 minuti andiamo al cortile da 12 minuti magari quando? 5,4,3 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 sono velocissimi venti secondi otto secondi uno mamma mia che tempismo molto bene ragazzi questo warm up ha attivato il ciormello non avrete più il formato così senza quindi molto bene la mia pancia e il mio pavimento ragazzi buon primo aprile ragazzi un bacio a tutti un bacio a tutti una piccola anticipazione delle nuove specialità che ci saranno al box da settembre facciamo di step coreografico ovviamente cocecciotto state sintonizzati mangiate tante uova di cioccolato ciao ragazzi ciao 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 ciao